Novità su Tiny Tina's Wonderlands, abbiamo finalmente l'interfaccia e possiamo vedere com'è e analizziamola però in un modo un po' diverso dal solito, infatti l'andremo a vedere su Photoshop. Ho due parti di interfaccia, quella principale che vedrete mentre giocate e l'inventario. Partiamo subito dalla principale, anzi partiamo ancora da una cosa un pochino più generale. A me personalmente l'interfaccia fa schifo, da quello che hanno detto i vari creator che hanno avuto accesso a questa demo è una demo di una build vecchia, quindi speriamo che l'interfaccia sia stata migliorata. Comunque, partiamo innanzitutto dalla parte bassa dove troveremo la nostra classica vita e come avevo previsto quel deflettore è soltanto uno scudo normalissimo, niente occasione per fare delle colazze di materiali diversi, cosa molto grave e i numeri fanno veramente schifo messi lì così, è un pugno in un occhio. Detto sinceramente, da uno che adora fare le cose graficamente fa veramente schifo vedere fatta così i numerini, il font, non è adatto. Abbiamo poi centralmente la barra del livello che in questo caso invece mi sembra perfettamente adatta, specie con il cerchio magico sotto, abbiamo sulla destra, come al solito, abilità e magia, con un cerchio magico sotto a caso, ci sta bene l'icona, mi piace meno di nuovo il font per le armi, sembra una cosa messa lì a caso, non c'è il simbolo dell'arma, non c'è C, B, quello che vuoi per cambiare la modalità di fuoco, molto molto brutto. Abbiamo poi nella parte alta le quest, che sono un po' diciamo in stile diverso dal solito, ma in questo caso il font ci sta, mi sembra più che adatto. Quello che non mi piace è la mappa. Non tanti colori della mappa che, sì, rispetto a Borderlands 3 potrebbero essere un po' troppo diversi, non credo sia non granché, ma lo stile proprio grafico della mappa, questo bordo grande, con il bordo viola, con il bordo magico, cioè è talmente grande e spessa, che occupa spazi inutilmente. Abbiamo un pochino anche di statistiche di FPS, tanto per... E questa era, diciamo, l'interfaccia che vedete mentre si gioca. L'altra interfaccia, adesso che vi verrà probabilmente un colpo, poi direte, ma che è sta monnezza, perché purtroppo è quello che è la grafica dell'inventario, di come vediamo i drop, quando vanno raccolti, eccetera. Io, ripeto, spero vivamente, ma veramente, veramente tanto, che questa grafica venga alleggerita, migliorata e ammodernata. Perché veramente sa di gioco vecchio di 15 anni. È un mattone da vedere, è veramente, veramente brutta. Comunque, questo sarà il nostro inventario. Come sapevamo, quattro armi, melee. Il fatto che ci sia il numerino mi fa sospettare che sia possibile impugnare l'arma melee cliccando il tasto 5, lo scopriremo quando potrò mettere le mani sul gioco, visto che non ho avuto accesso alla demo. Abbiamo poi i due anelli, trinket, che sarebbe il nostro amuleto, deflettore e suppongo armatura. Sì, chest plate. L'amuleto è bloccato, il secondo anello è bloccato e quello è un libro, quindi suppongo sia la magia. Quindi a questo punto l'armatura non è nulla di cosmetico. Cioè, non riesco a capire. L'armatura è un pezzo unico? Cioè, gambe, bracciali, elmo, torso, è tutto un pezzo unico? Di armatura? Visto che anche l'oggetto è illuminato ed è una plate, quindi è solo il torace, non riesco a capire. Anche nei menu in alto non c'è indicato nulla di armatura. Quindi dobbiamo veramente supporre che sia solo ed esclusivamente la chest plate, tutto il resto sia parte delle skin del personaggio. E la cosa mi rende estremamente, estremamente depresso. Peccato, 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 peccato. Vediamo anche i tipi d'arma. Pistola, SMG, assalto, cecchino, shotgun e lanciarazzi. Mili, ovviamente. Non ha munizioni. Meno male. Altra cosa che possiamo vedere è la scheda delle armi, che è una delle cose più brutte di questa interfaccia. È estremamente grande, piena di dettagli senza ragione, che distrae e dà fastidio. Tutte queste crepe, queste ombre, questo spazio, poi nero, poi bordo, più colore, più bordo nero. Ci sono tipo cinque bordi dal contenuto alla fine della scheda. È un fastidio unico. C'è ancora l'inutile punteggio arma, che come abbiamo già dimostrato in Borderlands 3, eh, non serve a niente. Cioè, molte armi sono più forti del loro punteggio. Abbiamo di nuovo il marchio dell'arma, che continuo a non capire perché si è inserito così in grande quando dovrebbe stare magari in piccolo in basso a destra, come stava in Borderlands 3. Abbiamo le statistiche più le passive, in cui vediamo Berserker Power più 8,8%. Non sappiamo ancora molto, ma iscrivetevi perché ci sono tutti gli skill 3 in arrivo nei prossimi giorni. Vediamo il costo in quella che sarà la valuta, quindi oro. E poi possiamo vedere il resto dell'inventario. Quindi possiamo vedere il backpack con uno shotgun, un'armatura, una magia e una mazza melee. Anche qui, troppi, troppi, troppi dettagli. Abbiamo l'arma con un bordo, uno sfondo, un bordo, un bordo e un contorno nero. Sono cinque benedetti bordi tra l'arma e il resto. E l'arma non ha nessuna cosa che la differenzia da quello che ci sta sotto. Non ha un'ombra, un contorno leggermente bianco, qualcosa che la distingua. Quindi si può mischiare in mezzo a tutti questi dettagli. In Borderlands 3 era solo un colore. Qua ci sono queste crepe, queste onde, questo gradiente dal verde al nero. Sono tutte cose che distraggono. Il bordo non è un bordo normale, è un bordo che ha colori diversi, riflessi, crepe. È veramente troppo, troppo pesante come grafica. Giusto per tutti quelli di voi che dicevano che magari era un po' troppo pagato dalla Gearbox per parlare bene di Borderlands, roba del genere. No, io sono onesto. Sono onesto. Abbiamo poi la quantità d'oro. Chiavi, quindi ci sarà di nuovo la chiave delle casse durate. E questa roba sbrilluccicante che mia supposizione sarà quella roba arcobaleno che abbiamo visto in un trailer che sarà il nuovo Eridium. Mia supposizione ovviamente. In basso abbiamo i tasti possibili. Cioè ritorna la possibilità di marchiare come spazzatura o preferito gli oggetti, eccetera. Possiamo ruotare il personaggio che è qua in mezzo. Quindi è un buon segno. Mentre per quanto riguarda il resto del menu abbiamo la barra in alto, abbiamo la mappa. Journal sarà il diario con le missioni. Inventario. Skill dove ci sarà l'albero abilità che come vi ho detto li vedremo nei prossimi video quindi iscrivetevi per non perdervi. E mid-rank. Mid-rank purtroppo dalla demo sappiamo nulla. C'è solo scritto si sblocca a livello 40. Sarà qualcosa molto simile quindi ai gradi guardiano. Detto ciò direi che questo era tutto per quanto riguarda l'interfaccia di Tiny Tina's Wonderlands iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video sugli alberi abilità e su tutte le novità che sono uscite da questa demo. iscrivetevi per non perdere le novità e su tutte le novità e su tutte le novità.